Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. Per l'occasione l'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno ha scelto come tema le strategie di marketing dell'industria del tabacco rivolte alle donne. Sono proprio le donne il nuovo obiettivo delle case produttrici e sono anche loro a pagarne le conseguenze. Tra l'altro anche noi di Antenna Sud ci siamo allineati con una nostra campagna che avete visto in apertura di questo nostro telegiornale. Però era importante tornare sull'argomento con un ospite illustre questo pomeriggio per parlare con il presidente della Lega Nazionale Italiana per la lotta contro i tumori Francesco Squittulli che è qui con noi. Grazie per aver accettato il nostro invito. E su questo tavolo vedete la locandina dei manifesti e anche della comunicazione che ci commenterà il nostro presidente e anche dei gadget. Ma prima di fare la domanda inerente alla giornata mondiale senza tabacco, io vorrei fare un passo indietro visto che l'apertura del nostro telegiornale è stata dedicata alla manovra finanziaria e abbiamo ricevuto una sua nota stampa che vorrei sottolineare e proprio registrare in diretta la sua posizione sulla manovra finanziaria. Le province sono pronte a fare la parte del sacrificio ma? Sì, noi facciamo la parte del sacrificio perché sia un sacrificio condiviso da tutti. Una manovra certamente necessaria ma deve essere equa per tutti, cioè non si può far ricadere una manovra come una mannaia soprattutto nei confronti di chi svolge determinate funzioni e parlo della scuola, parlo della viabilità, parlo dell'ambiente, funzioni proprie dell'amministrazione provinciale. Quindi sopprimiamo tutti gli enti inutili, sopprimiamo tutte le agenzie, sopprimiamo tutte le società, sopprimiamo tutto ciò che è il collegato a questo sottogoverno che certamente è stato responsabile di questa debacle anche finanziaria nel nostro paese. Beh, tra l'altro lei ne ha parlato qualche settimana fa a proposito di enti inutili e ho partecipato anch'io a questa bella occasione di dialogo anche con la presentazione di un giornalista illustre, quale Aldo Forbi, cioè mi sembra assolutamente importante. Ma torniamo a parlare della giornata mondiale senza tabacco, parliamo al presidente della Litta, al senologo. La prima cosa che mi viene in mente, parlando al senologo, è questo riscontro effettivo proprio della crescita del numero delle donne fumatrici. Sì, registriamo purtroppo, nonostante l'acuta intelligenza che contraddistingue il sesso femminile, registriamo invece un incremento annuale continuo di questa cattiva abitudine che le donne hanno preso sin dagli anni 60-70. E oggi pagano le conseguenze in termini proprio di salute. Qua non parliamo soltanto a livello degli effetti dannosi che il fumo provoca a livello estetico, cosmetico della donna, l'aumento delle rughe, l'alitosi, l'ingelimento delle dita, ma anche di malattie pesanti come le malattie cardiorespiratorie, circolatorie, vascolari, ma addirittura il cancro. Noi abbiamo ora dei reparti che sono riempiti al 50% di tumori polmonari che interessano l'uomo e la donna. Questo deve mettere la donna sulla visaglia di lasciarsi perdere questa cattiva abitudine. E purtroppo il numero invece delle donne che abbiamo registrato nello scorso anno è quasi pari a quello degli uomini. Abbiamo 5,2 milioni di donne che fumano rispetto ai 5,9 degli uomini. Cioè è un dato che si va sovvertito completamente rispetto agli anni precedenti. Qui la maggiore attenzione è rivolta soprattutto al mondo femminile, ma soprattutto al mondo femminile giovanile, sono le giovani donne. E allora noi dobbiamo cercare di coinvolgere, tra virgolette, in maniera pedagogica, ma anche in maniera attiva e diretta il corpo docenti, dobbiamo cercare di coinvolgere i nostri ragazzi, sin dalla scuola materna. Potrà sembrare quasi un'assurdità quella che io sto dicendo, ma se io riesco pedagogicamente ad influenzare il bambino di 2, 3, 4, 5 anni e questo ritorna a casa e vede la mamma giovane fumare e dice mamma io oggi il bacio non te lo do perché tu non vuoi bene né a te e soprattutto non vuoi bene a me. Mette in crisi da un punto di vista psicologico la giovane coppia e quindi diventano loro quasi educatori nostri. Lei fa bene perché in temi così delicati bisogna secondo me andarci un po' giù duro. E anche visto che lei sicuramente è più informato di me, anche parlare effettivamente di decessi e avere davanti una situazione così difficile e drammatica può aiutare. Ma certamente, poi noi abbiamo un'aspettativa di vita che cresce, allora dobbiamo preoccuparci che i nostri ragazzi che avranno come aspettativa di vita, i nostri figli già 100 anni come aspettativa di vita media, che li vivano bene, che non li vivano con un sottoposto ad ossigenoterapia o peggio ancora cancro, tumori. Ecco perché deve essere una campagna corale che deve vedere da un lato le istituzioni, dall'altro i media che devono supportarci con una corretta informazione, ma anche non riprendendo televisivamente chi sta fumando, ma anche cercare, anche nell'ambito dello sport, isolare i fumatori. Cioè se noi agli stadi mettiamo dei settori per fumatori, questo nuvolone, però lasciamo gli spazi liberi per chi non fuma e chi non vuole neppure subire il danno passivo da fumo per due ore alla settimana. Ultima battuta, si riesce a smettere di fumare, ci vuole dare qualche consiglio? Certamente sì, noi abbiamo 106 sezioni provinciali in tutta Italia, tutte le sezioni provinciali effettuano dei corsi gratuiti per smettere di fumare, l'essenziale è che ci sia la disponibilità a questo e attraverso i corsi della Lega Italiana per l'Ottocotto dei Tumori si riesce a smettere. Abbiamo un successo registrato, consolidato ormai da anni, abbiamo circa il 72% di chi ha frequentato questi corsi che smette di fumare. Grazie, grazie davvero per la sua collaborazione e mi sembra importante seguire ogni appello in questa giornata.